e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi a mangiare l'occhio quest'oggi ragazzi andremo a parlare dell'ufficialità ormai perchè Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio e allora Sarri è un allenatore che a me piace sinceramente infatti se fosse venuto alla Roma Sarri è stato molto felice è chiaro poi dopo la Roma prende Mourinho è chiaro sono ancora molto più felice vabbè io di Mourinho e Sarri secondo me a Sarri bisogna dargli tempo innanzitutto perchè comunque la Lazio negli ultimi 5 anni circa ha giocato sempre e solo con la difesa a 3 con 3-5-2 mentre con Sarri dovresti fare un 4-3-3 e comunque c'è anche abbastanza differenza perchè quasi tutti i giocatori giocano con la difesa a 3 cioè sono abituati con il 3-5-2 no con il 4-3-3-3 tipo vedi immobile immobile con la Lazio Fenomeno nazionale che gioca con il 4-3-3 cioè si è forte ma non non mi dà quella sicurezza non è quell'attaccante che ti fa fare il salto di qualità nazionale poi stavo sentendo che il sacrificato potrebbe essere Joaquin Corea cioè Corea potrebbe lasciare la Lazio e ma appunto non perchè appunto non giocherà con la seconda punta giocherà con l'attaccante fisso e i due e le due ali chiedi ragazzi questo qui se devo dare un voto do 7-7,5 non mi vuoi più sbilanciare perchè perchè è sempre dura giudicare prima quindi 7-7,5 come voto e chiedi ragazzi per questo video lasciate like iscrivetevi perchè chi non si iscrive al canale non arriva a Natale e noi ci vediamo come sempre con noi ciao ragazzi